Quattro veicoli coinvolti in un brutto incidente stradale nella notte a Roma in via di Boccea. Al bilancio è un morto e cinque feriti, di cui due gravi, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Roma Capitale. Intorno all'una una Toyota Iaris avrebbe urtato due auto prima di ribaltarsi. Uno dei mezzi coinvolti è andato a sbattere contro un'altra auto in sosta alla guida della Toyota, una 35enne italiana che è deceduta dopo essere stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Insieme a lei, come passeggere, rappresenta la figlia di 15 anni che è attualmente ricoverata all'ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un giovane italiano di 24 anni e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni, a bordo sono stati portati all'ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito. Una terza cittadina peruviana è stata portata in codice rosso all'ospedale San Camillo. In corso gli accertamenti per risalire all'esatta dinamica dei fatti. In corso gli accertamenti per risalire all'ospedale San Camillo.